Tar, stranamente, che dovrebbe essere l'organo amministrativo che dovrebbe far rispettare in primis le norme e le leggi, in questa circostanza ha ritenuto opportuno soprassedere a questi elementi e anticipare, di fatti, in violazione netta della norma, l'udienza. Quindi noi oggi stiamo a discutere di una sentenza che di fatti stoppa per certi versi quelle che sono le ordinanze del sindaco, tese solo a dare dignità, tese solo a dare la possibilità ai cittadini di vivere in un paese normale. Il Tar anticipando e violando le norme, cosa fa? Viola quelli che sono i diritti dei cittadini. Il Comune di Gela si rivolgerà al Consiglio di Giustizia Amministrativa. Di sicuro all'Organo di Giustizia Amministrativa, che è un organo superiore al Tar, che non abbiamo dubbi, così come ci dicono anche i nostri legali, non abbiamo dubbi che riporterà di nuovo al Tar per la discussione nel merito, cosa che oggettivamente non c'è stata, perché tutto è avvenuto con una rapidità enorme, senza praticamente tenere conto di quelli che sono i tempi tecnici previsti. L'assessore al bilancio Fabrizio Morello indica la strada da perseguire nel rapporto con Caltacqua. Continuiamo nel nostro programma, che è quello praticamente di arrivare a utilizzare l'acqua nel rispetto delle regole e nella possibilità che Caltacqua decida una volta tanto di dare l'acqua a Acqua 24, è possibilmente potabile. Se ciò non dovesse avvenire non siamo più disposti a tollerare quello che fino ad oggi hanno già fatto altri per più di un decennio.